Allora, tra i tanti quesiti che da sempre Pier della Vigna risveglia in me, forse solo questo non è di carattere esistenziale. Allora, per la verità, prima di scrivere l'Antica Fiamma ho sempre detto Pier delle Vigne, ma quando scrivevo il diario di Bianca Maria mi chiesi se non fosse più corretto scriverlo nella sua lingua originale, ossia il latino, e fu così che per la prima volta mi ritrovai a riflettere sulla traduzione italiana del nome. Devo comunque premettere di aver fatto moltissima attenzione ai nomi nei diari antichi. Quella di italianizzare nomi e cognomi stranieri fu una moda pesantissima attuata dal regime fascista, quindi non può essere riscontrabile in diari appartenuti e scritti nel Medioevo. Quindi è per questo che nei diari antichi dell'Antica Fiamma i nomi di re, regine, comunque di personaggi stranieri li trovate scritti nella lingua originale. Ad esempio, re Francesco I compare come re François e così tutti gli altri. Sempre in questo ambito bisogna dire che invece gli antichi avevano un'altra abitudine, quella di cambiare il genere dei cognomi. Ed è per questo che talvolta Bianca Maria Gaspardone compare come Gaspardona o Scappardona nei testi del bandello. Scappardone è l'altro cognome con cui è nota Bianca Maria. Tra Gaspardone e Scappardone io per il romanzo ho scelto Gaspardone perché è questo cognome che compare agli atti a Casale Monferrato, che era la città natale di Bianca Maria. Quindi credo che loro meglio di chiunque altro possa retenere la verità sul cognome di Bianca Maria. Quindi ecco, c'era questa moda di cambiare il genere del cognome se maschile, riferito a una donna, cambiarlo al femminile. Ed è per questo che Maria Paleologo compare come Maria Paleologa, nonostante appunto il cognome originale fosse al maschile, cioè Paleologo. Un altro esempio legato all'antica fiamma è quello di Isabella Boschetti, cioè l'amante del Gonzagan, che era conosciuta a quel tempo come la Bella Boschetta, nonostante il cognome fosse Boschetti, quindi al maschile e al plurale. E così compare appunto. Per lo stesso motivo, Pier delle Vigne è divenuto Pier della Vigne, seppur la versione più nota tra le persone sia Pier delle Vigne, in realtà poi nelle enciclopedie compare effettivamente come Pier della Vigne. Il fatto è che il nome originale in latino era Petrus de Vignea, quindi questo dimostra che perfino il nome non è quello che probabilmente noi riteniamo essere, perché Pier, il nostro Pier, non sta per Piero, ma per Pietro, e non mi risulta che ai giorni nostri almeno Pier sia un diminutivo di Pietro, ma semmai appunto di Piero. Ad ogni modo, il suo cognome era scritto Vignea, che significa vigna, il plurale, cioè vigne, sarebbe vineae, che non è il caso del mio amato autore relegato alla selva dei suicidi. Quindi la traduzione corretta del suo nome sarebbe Pier della Vignea, e di fatti così lo trovate scritto su maggior parte delle enciclopedie, sulla Treccani, ad esempio sui siti che trattano della Divina Commedia, della letteratura in genere o della cultura. Sebbene io preferisca Pier delle Vigne, per una questione di correttezza 360 gradi ho scritto Pier della Vignea. Quindi non solo non è un errore, ma è una scelta profondamente voluta, anche perché Pier della Vignea è una figura estremamente importante nell'Antica Fiamma, ma anche nella mia vita. Dopotutto, una delle due frasi che mi sono fatta tatuare sul braccio è sua, anche se gli fu attribuita da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Quindi a maggior ragione in questo caso ho voluto e dovuto prestare moltissima attenzione.